Musica Ciao a tutti ragazzi bentornati sul tenere di Genetic TNA e continuiamo le avventure con Beyond con un episodio corto cortissimissimissimissimo le presenze e abbiamo anche sbloccato un trofeo buona visione a tutti buonanotte principessa e Nathan sta bene? quando potrò rivederlo? non lo so piccola sono tre giorni che non esce dall'ufficio Nathan amava sua moglie e sua figlia più di ogni cosa al mondo ma ci riproviamo domani, ok? adesso provo a dormire non lo so piccola Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giody, che cosa ci fai qui? È tardi. Torna a dormire. Non essere triste, papà. Cosa? Cosa hai detto? È stato così rapido. Mamma non ha potuto fare nulla. Ma non abbiamo sofferto. Smettila, Giody. Non abbiamo sofferto. Mi hai capito? Smettila subito! Siamo qui con te, Nathan. Siamo qui, al tuo fianco. Enel. Laura. Ti amiamo, Nathan. Noi ti ameremo per sempre, tesoro. Parlate ancora. Giody! Falle tornare! Devi farle tornare ancora! Non posso. Sono andate. Ti prego. Ti prego. Falle tornare. Falle tornare. Mi mancano così tanto. Mi mancano così tanto. Mi mancano così tanto. Ok, come ho detto, è stato un brevissimo episodio. Il prossimo sarà più lungo. Ciao ciao!